Un noto ginecologo palermetano finisce nei guai agli arresti domiciliari con la pesante accusa di violenza sessuale. Grazie alla denuncia di una donna tunisina di 29 anni, poliziotti della sezione di polizia giudiziaria presso la procura dei minori hanno notificato al dottore Biagio Adile, direttore dell'Uroginecologia di Villa Sofia, il provvedimento firmato dal GIP su richiesta della procura. La vittima dei presunti abusi sessuali durante una visita specialistica avrebbe avviato una registrazione dal telefono cellulare nella quale si sentirebbero alcuni dettagli inequivocabili. A ciò si aggiunge il racconto della donna che prima si è confidata con un amico e poi ha presentato una denuncia. Nel corso delle deposizioni della vittima che si sono tenuta alla presenza di una psicologa e di un interprete di lingua araba la donna ha raccontato di soffrire di gravi problemi ginecologici che in Tunisia l'avevano costretta a subire ben 13 interventi chirurgici senza tuttavia ottenere validi risultati e di essersi per questo rivolta all'indagato. Dopo il primo episodio di violenza nello studio privato nel dicembre del 2016, il medico che nel 2014 si era candidato anche a sindaco di Racalmuto le avrebbe detto di fare anche un'ecografia gratuita presso un suo amico che lavorava in ospedale. La donna, sospettando che si sarebbe potuta ripetere la violenza, ha portato il cellulare per filmare la visita riprendendo così gli abusi. Le indagini si sono anche avvalse della consulenza tecnica di un perito della procura che ha estrapolato la registrazione che ha fornito riscontri alle accuse. Adesso si indaga per accertare se il ginecologo abbia violentato anche altre donne. Abbiamo appreso la notizia dei giornali, non appena avremo letto l'ordinanza completa, spiegano dall'ospedale Villa Sofia valuteremo se intraprendere o meno un'azione disciplinare.